La riforma costituzionale, la riforma elettorale, che era la riforma elettorale più bella del mondo. L'ex ministro Boschi ci aveva raccontato che gliela chiedevano anche gli stati esteri quella riforma elettorale. Avete visto che fine stiamo facendo? Adesso non prendiamoci in giro. È stato fatto tutto alla velocità della luce, è stato buttato il fumo negli occhi agli italiani e sono mille giorni persi. In questi mille giorni qualcosa di buono è stato fatto? Sì, perché la possibilità di poter licenziare i furbetti del cartellino, che io non li chiamo furbetti, io li chiamo ladri, ladri, per poter licenziare i ladri, è una cosa sacrosanta, che per esempio il centrodestra ci aveva provato e non era riuscito, se vi ricordate, con Brunetta. Ci avevamo provato in tutti i modi, ma poi alla fine non eravamo riusciti ad arrivare... Cremaschi, anche per lei che è stato sindacalista, che si occupava tanto di lavoro, è una cosa sacrosanta? Ma guardi, io ovviamente per storia e per ragione quanto sento parlare di licenziamento ho sempre un po' di preoccupazione, perché so che poi vuol dire finire in mezzo a una strada e quindi vorrei un minimo di cautela. Se io rubo è giusto che mi licenzino. Ho capito, ho capito. Però sta, mi metto nei panni di tutti i miei ragazzi giovani che non hanno lavorato, che sono quelli di posto fisso, che non vanno a lavorare, e mi girano un plato a poco.